Diciamo che vogliamo cambiare il colore soltanto a una parte di una clip su cui stiamo lavorando. Allora la prima cosa da fare è fare Command-D per Importa, selezioniamo il file su cui vogliamo lavorare e gli diciamo già di crearci una composizione intorno a questo file. Eccoci qui. A questo punto con il file selezionato andiamo a creare una maschera. Molto velocemente. La maschera tiene visibile soltanto la parte che abbiamo selezionato, ma questo è corretto. A questo punto andiamo a selezionare l'effetto tre tonalità, la trasciniamo sopra la parte di cui vogliamo cambiare il colore. L'ha già cambiato, però noi ne vogliamo un altro. Diamo un colore assolutamente a caso. E abbiamo cambiato il colore della nostra clip. A questo punto però parte è ancora nascosta, per cui se noi andiamo dentro in effetti e tre tonalità abbiamo opzioni di composizione. Cliccando più riscopriamo la parte che avevamo coperto. Ora c'è un'ulteriore cosa che si può fare. Se io duplico questo livello con Command-D, a questo punto ho due livelli assolutamente identici. Ora io posso aprire la maschera e dirgli di invertirla. In questo modo ho applicato il mio colore sulla parte superiore, ovvero quella esterna alla maschera, e la parte inferiore ha ancora il colore originale. Se ci ricordiamo, abbiamo aperto effetti e tre tonalità e abbiamo cliccato più per vedere la parte nascosta, per cui se clicchiamo meno la nascondiamo. A questo punto, su questo canale, noi possiamo cambiare il colore solo del cielo. Ed ecco come si cambia il colore soltanto a una porzione del nostro video.